Stefano Colantuono, più la soddisfazione di aver tenuto testa alla Roma in una situazione non propriamente facile perché tra infortuni chi più ne ha più ne metta o il rammarico di aver perso l'opportunità di vincerla questa partita? Il rammarico c'è perché il pareggio l'hanno raggiunto alla fine, ci avevamo quasi fatto la bocca, però se prima la partita ci avessero detto del pareggio saremmo stati tutti molto contenti vista l'emergenza, le situazioni un po' complicate che abbiamo vissuto questa settimana, poi mi ha fatto piacere, io guardo sempre la prestazione e devo dire che la prestazione è stata di livello. Ecco, un'Atalanta che ha dimostrato una volta di più di esserci, forse manca quel saltino di qualità in trasferta? Sì, se riusciamo a sistemarci presto in trasferta, ma questo credo che potrà avvenire quando avremo recuperato un po' tutti i giocatori, sono convinto che potremo togliersi ancora qualche soddisfazione, rimanere sempre umili e concentrati perché la classifica è corta, però dopo che ha giocato queste partite un po' di soddisfazione e di certezza in più ce l'hai. C'era il dodicesimo uomo in campo, che era il pubblico, lo si è sentito, il tredicesimo era Stefano Colantuono per la grinta che ha trasmesso. Direi che la gente come al solito ci ha dato un grande aiuto e li voglio ringraziare perché comunque anche oggi sono stati lì con noi sul pezzo, ci hanno sostenuto veramente tanto, per cui un ringraziamento speciale a tutto lo stadio perché si sono fatti sentire tutti oggi distinti, tribune, l'altra curva, tutti. Quindi l'Atalanta deve essere questo, un unico blocco, specialmente in casa, dove quest'anno probabilmente dovremo costruire le nostre fortune. E Stefano Colantuono? Alla fine ha subito anche l'espulsione, è mancato qualcosa all'Atalanta in quegli ultimi dieci minuti? No, eravamo rimasti in dieci purtroppo, forse qualcuno magari non se ne è accorto, ma Maxi non era più in grado di continuare, non avevamo più cambi. Se avessimo avuto un giocatore fresco o poter fare ancora un cambio l'avremmo fatto, probabilmente con un giocatore lì più fresco forse avremmo potuto portare a casa il risultato, però ripeto, va bene così, insomma, puoi chiedere... E proprio cercare il pelo nell'uovo. Nell'uovo, va benissimo così, lavoriamo e questo risultato ci deve dare grande consapevolezza e grande certezza, però guai a non rimanere con i piedi per terra perché domenica a Veruna sarà molto più difficile che questa.